Vabbè non è che dobbiamo per forza ingrifar Nella live dell'ultima volta abbiamo iniziato la nuova vanilla in 1.19.2 che è l'ultimissima versione se non ho capito male Abbiamo cercato il posto dove iniziare Però a me non piaceva Quindi ho cercato di più e ho trovato un posto degno di questo nome Illustratevi gli occhi Guardate che valle Che valle bellissima che c'è qua Guardate e noi che ci stavamo accontentando di una montagnola di sburdaccia Nooo Quale cosa ha trovato? Guardate là Allora di là c'è la mesa Ma quella non è una mesa normale perché sopra vedi che ha quella foresta della mesa E' vero è una mesa rara? E' rara E' rara E' un alto piano raro Non l'avevi vista te lo giuro Poi abbiamo giungla scoscesa su una montagna Poi abbiamo montagna normale che entra a mezza con un'altra giungla bellissima Poi un corso d'acqua Montagna Guardate che bellezza Montagna ancora più alta dietro Poi Questo qui è il Bedlands Questo qua è proprio il deserto delle Bedlands Insieme al deserto normale E' ancora montagne E' bellissimo E poi l'ha giustato di coralli Non hai fatto vedere i coralli Giusto i coralli E non ho detto che cosa ci permetterà di fare questa cosa Ma adesso ve lo dico Però prima Ciao Questo posto è bellissimo Lui no però Lui non è bellissimo Per la prima volta voglio fare un tipo di città Galleggiante Sull'acqua Che bello Che bello Praticamente possiamo fare una serie di strade Che vanno tutte a incrociarsi Se vedete Che secondo me ci sta anche molto bene Una dalla Della Dal lato di là Io alzo la mano ci servirebbe secondo me uno schema su paint Cioè No Un bel disegnino Ma tanto per ora è presto Perché ancora non abbiamo materiale Sì per ora è presto È ancora una bozza E poi Tutti gli edifici Sorgeranno Tipo palafitte Ma saranno grandi E alcuni degli edifici Più importanti Saranno a ridosso Delle costiere montuose Bello Molto bello Che bello Incastonati nella montagna Che figo Abbiamo tanto spazio Abbiamo tanto spazio in cui espanderci È molto grande Abbiamo moltissimo L'unica cosa è che rovineremo un po' questo squarcio di mare Però Cercheremo di essere Se lo facciamo bene non rovina nulla Cercheremo di essere ambientalistici Secondo me Insomma La cosa bella poi Di questo posto È che potete averlo tutti È un È un È un seed famoso Sta su internet Basta che cercate tipo I più bei seed Della 1.19.2 E uno di questi È proprio questo qua E secondo me Mua Proprio al bacio Ah stregatto lo sa Come hai fatto a saperlo Io so sempre tutto Aspetta Non serve che lo spammate Guarda Lo scrivo qua Nella chat di Minecraft Ok Questo È il seed Se lo inserite Vi esce lo stesso identico mondo E potete anche voi Giocare nella nostra Nella nostra mappa Simile Ovviamente Comunque la parte Dove si scava su Minecraft Secondo me è la migliore È rilassante Mamma mia che bella È meglio di quella Dove si costruisce Non lo so Non lo so A me piace più costruire A me piace più scavare Siamo complementari Io scavo e più costruisco Complementare i materiali E usarli È comunque sempre molto bello Ma sapete che cosa vi dico Secondo me In questa vanilla Potremmo Fare una cosa Che non abbiamo mai fatto Prima Collaborare Perché siamo sempre stati contro Noi Che ognuno aveva La sua Non piace collaborare Con certa gente però Lo so Però questa volta Potremmo provarci E far capire Che tutti in fondo Possono essere utili Siamo una squadra Però io so già Che succederà Che qualcuno Non collabora E Dopo gli dobbiamo E verrà E verrà Sgridato Però tu sei più in basso di me Questa cosa è una cafonata Ah non volevo Mi salgo Saliti Perché se no Ti sotterro Perché ero morto No non mi dici Ma non è successo nulla Perché ora vado a riprendermi tutto Ma che Ma veramente Ma che no raga Ma che schifo Ma veramente Sei morto Non stiamo scherzando Sì Ma che schifo Jake was shot By skeleton Ma veramente Shotato Non voglio più collaborare Con lui È un idiota E tu dici che vogliamo collaborare qua Come hai fatto a morire E se c'era la regola che Eh era già la fine per me Eh Eh magari c'è Non l'abbiamo deciso eh Magari te la meriti la fine tu eh Mi abbandoniamo già Stiamo a meno 22 24 Ma cosa hai trovato per ora? No Andiamo in una camera È molto più grossa Però dobbiamo andare in due Perché c'è tanta C'è in taccia Zitto Scusa? È una ghiaglia brutta Io la odio quella Guarda come sono bravo Ah Eh Hai visto? Pericoloso Mamma mia Pericoloso Ti immagini che c'è il warden sotto Allora Posso dire una cosa? Ma con il rame Eh Si fa qualcosa di utile Tua madre Vabbè Allora Ce l'ho tantissimo Ecco Mi fanno tanti quei blocchi Vai dirlo la mamma Allora Goblin Devi scendere Ce l'hai la spada? Certo Ok Sei pronto? Ah Sì Vai 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 Vado Bravo 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 Goblin Eh Quanta gente Goblin è un Qua sotto Eh Goblin Non so se svivi Bravo Bravo Adesso devi ucciderli anche Perché Adesso lo faccio Piano però Goblin stanno salendo Bravo Oh no c'è un piccolino E andavi tipo un bunker Goblin Tu non morirai Ok Perché devi Lavorare per me Ah Goblin Goblin Attento Goblin Non ti avvicinare qua Che c'è No Perché Attento Goblin scappa Vai 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 Oh lì c'è il warden C'è il warden Anche lì è pieno No nel muro Nel muro Infiliamoci nel muro Nel muro Nel muro Ok Tappo sopra E questo è un momento Sudoso eh Questo mondo ci vuole bene Ragazzi Ci vuole bene Poteva sembrare Che ci odiasse Però dicono In chat Dicono di andare Dal warden Con i diamanti Perché quello Ti stuzza No A noi no Eh no no Ma c'è là No no Non ti stuzza Però secondo me Anche gli altri Dovrebbero condividere Con noi questa esperienza Ma infatti Vorremmo venire anche noi Però vi abbiamo perso Proviamo a tiparli no Mi sembra una situazione Questa è Giusta Faccio un po' di spazio Vabbè prendo il diamante Vai via lontano Diamante sugoso L'ho preso Cioè era quasi Tessuto Che era solo uno Doveva essere speciale Però Geric va bannato No Per favore no Non mi piace questa cosa Ragazzi qua Può nascere il warden Però non è detto Che ci sia Però il luogo è il suo Ormai siamo in casa sua Deve essere tipo Quell'aggeggio strano Quello che tipo Manda le onde Ah Esatto Cioè tipo Razzentity si chiama Ma fa un rumore Ma guarda qua Come c'è 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 No Ma non Siamo fermi Ferma Ferma Oh è tutto buio Non vedo nulla No via via Non c'è Non c'è Non c'è Fermi Shiftate Shiftate Bisogna shiftarsi di brutto Ma se ti passa vicino Non ti vede No Eh non so se ti sente Devi far rumore Ma ci moriamo Io mi ricordo Che questa cosa Ti dà Un'avvertenza Cioè Puoi farlo tipo Due volte forse E poi dopo Spawna Ma questa roba Hai visto che ti dà L'esperienza Come esperienza Davvero Rompere sta roba Ti dà pochissima Però ti dà esperienza Ma è rotto però Ma infatti ce n'è tantissima Però non si può prendere Peccato perché Mi sta avvenendo un'idea bellissima Di fare la strada nostra Quella sospesa Con questa roba Guarda che stava bene Magari si prende Mi sta prendendo Quei cosi Che Alexi ce lo possiamo scrivere Sì aspetto Allora Fare strade Come si chiama Questo blocco chat Questa cosa qui Proprio questo blocco Skulk 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 No 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 Prego Ma cosa Ma cosa sono Stress Spiegami che cosa è Quelle onde sono Non muoverti Quelle onde sono quelle che tipo Avvertono il warden E lo fanno spawnare Ma quelle onde tipo rotonde Giusto Sì E questi blocchi qua Che cosa sono questi Sono È sempre lo stesso Invece quello Con tipo i peletti Che pensano sopra Non lo so Però mi sa che si possono prendere Glielo preghiamo È vero di romperli No Non so se è una buona idea Mamma mia Si incazza di brutto Non so se serve Shift Non ho idea Attenzione C'è 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 Cosa vuol dire Shift Shift ti ti prego L'ho sentito È arrivato È là Da dove Non lo vedo Non si vede nulla È arrivato Perché c'è casino Quando arriva Oh Vabbè Non è che dobbiamo Per forza ingriffar Aaaaa 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 F***a mia Ma cosa fa Cosa fa Ha smesso Questo è uno zombie Ok Ok No 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 Qui fermi C'è uno scheletro Controllate dietro È pieno di scheletri È pieno di scheletri Ok ok No raga Corriamo tutti nel No no Uccidiamo Uccidiamo Guarda che ce la facciamo Uccidiamo Uccidiamo Chi ha poca vita Scappa poi Ok Attenzione dietro Geric vengo io Vengo io Vengo io Aspetta Vai 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 Come dei diavoli Siamo i diavoli tasmani Tutti vanno via Vedete gli scheletri Che ammazzano Ok 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 Geric occhio Perfetto Vedi che forzieri Che siamo Ce n'è ancora Ma guarda quanto spawnano Nelle migliere Guarda l'acqua Di creeper Mamma mia Sono l'esercito Di quello in prima Occhio eh Occhio 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 Il ragno Lelele Ok Occhio al creeper No no Occhio al creeper No 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 Secondo me I creeper Meglio lasciarli stare Però eh Anche secondo me Aspetta aspetta Freccia del creeper Eh se lo ammazza Ci dà il disco Dai che ci dà il disco Mannaggia Uccidilo Uccidete il ragno Il ragno Il ragno Ce l'ha costretto Ok No è troppo difficile Alex è stupido Uccidiamo quello Non sai fare niente Comunque Alex Io mi stavo cercando Di mettere davanti Lo schermo Però il creeper Non seguiva Fai solo crashare I mondi Dove gli amici Altri giocano È vero Sono 1.000 Ma ora con 8 creeper Lì cosa facciamo Allora mettimi Mettimi una fornace Io sto guardando Negli intorni Che non si avvicini Nessuno Sì Piena di gentaccia Ok Aspettiamo Ma cosa vuoi fare Scusa vuoi tornare Dal warden Eh Ma comunque Non abbiamo ancora deciso Il nome Della landa Per il posto Eh Avevamo detto Che l'avremmo scelto Un nome Tu c'hai qualche idea Per caso La valle Secondo me è una bella valle Quella La valle La bella valle No Andiamo a avere uno Dei nomi suoi Che tu sei sempre bravo A trovarli Ma certo Sono sempre d'effetto Oh Molto originali Il primo episodio Della vanilla L'ho chiamato Lionland E secondo me Ci sta bene Come nome della valle Eh La enda La enda Ci sta La enda Lionland Lionland È bellissimo Ci piace Ci piace a tutti È approvato quindi Aia Gli piace Sei sicuro Ti piace a tutti Ti piace Ti piace Ti piace Io sto d'accordo Grazie Alex Prego Che legno dobbiamo usare È C'è quello della giungla Di base Di base Di base è carino Sicuramente va cotto Forse Prova a metterlo No No Invece Ho fatto con quattro di quelli Forse sì Aspetta No Non va cotto Ah no Forse Wow Che bello Però Allora È facilissimo fare Questo Quindi Ti senti che il rumore Di segabaglione È appena fatto Metti dei quattro Come a fare I cosi blocchettini No No Nella crafting Ti dice qualcosa Eh Forse ci serve La sega Eh però no Una cosa c'è Packet mood Ah Con il grano Si fa Serve quello Malus Qualcuno ha del grano Eh vabbè Ce l'avevamo prima No Puoi fare il tetto È un po' da tetto però È l'item Ma guarda la foto Che ti ho mandato È diverso Ci sono due tipi Eh cavolo Questo si fa altro È cavolo 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 Però L'altro è molto bello È molto bellino E come si fa l'altro Eh sicuramente ne vanno di più Dammi l'altro grano Oh bello questo Guardate un po' Visto Questo è molto bello Guarda che bello È tutto cosettato Molto bello Aspetta zitti Fa proprio Senti che il rumore Di segabaglione Ed è anche duro Eh A me il marrone Non piace tantissimo Però Possiamo usarlo tipo Per dei dettagli Tipo La cornice Come colore più scuro Va bene Lo inserisco come blocco Tra l'altro veniva proprio messo Ho visto Mi pare Però non con questo Con il deep slate Ma l'altro Quello che va detto paga Si sta bene Si sta bene dici Un bel accoppiamento È lo stesso blocco Poi con tutte le slab Tutte le cose E sono cose belle Adesso Allora abbiamo il blocco chiaro Abbiamo anche quello scuro Abbiamo il blocco scuro Dobbiamo aggiungere un legno Un legno Qualcosa di colorato Il legno della giungla È sempre quello Alex A me fa proprio Un po' cagare Però Allora dobbiamo trovare quello scuro Secondo me ci vorrebbe È quello nero Il legno Dark È più bello Lo spruzzo Lo spruzzo ti giuro Si usa sempre in qualsiasi cosa Ok Allora Il legno di mangrovia Chat Che colore è? È quello rosso Che hai detto Non piace a te Ma non l'ho mai visto Quello è nuovo È proprio rosso Ma non è questo No Questo non è E allora può essere bello Buonanotte a tutti E Lion out